bene eccoci qui siamo collegati con ivana barbacci segretaria generale cisl scuola e con barbacci con la sindacalista esperta anche di sostegno volevamo appunto parlare di disabilità e di carenza di insegnanti di sostegno è una delle piaghe possiamo dire che non si riesce a risolvere per quanto riguarda la scuola italiana parliamo di oltre 200 mila posti la metà dei quali vengono assegnati annualmente a e personale precario il 90 per cento di questo personale non è specializzato e questo significa che ogni anno i ragazzi bambini gli alunni cambiano 200 di sostegno quindi un docente che cambia e che non ha adeguate competenze barbacci come se ne esce da questa situazione c'è un solo modo ed è una necessità urgentissima abbiamo già superato la soglia di emergenza proprio i numeri che lei ha ricordato ce lo dicono dobbiamo mettere a disposizione degli insegnanti percorsi di specializzazione che siano fortemente aderenti ai bisogni relativamente alle disponibilità lei ha chiaramente ricordato che 90 mila docenti occupano cattedre di sostegno senza averne la specializzazione questa è un questo è un danno all'intero sistema scolastico quindi dobbiamo attivare tfa in maniera ordinaria organica serve un sistema un sistema permanente che consente agli insegnanti di poter accedere a percorsi di tirocinio formativo attivo e acquisire le specializzazioni mi sento di dire che c'è un bisogno in una fase transitoria di non mettere numeri ma di fare una grande operazione che possa essere anche gestita dal ministero piuttosto che dalle università valutiamo anche questo cioè è un bisogno della scuola allora invece di fare la scuola di alta formazione mi sento di dire perché non convertiamo una struttura che possa rispondere ad esempio a tutti i bisogni legati all'acquisizione delle specializzazioni sul sostegno e le abilitazioni perché l'altro tema l'altra faccia della medaglia anche come fare per abilitare gli insegnanti che sono in seconda fascia gps ce ne sono tantissimi arriveremo anche alle seconde fasce gps lì noi dobbiamo interrogarci su come abilitarli per metterli in classe in maniera qualificata no perché anche questo è un aspetto anche paradossale moltissimi insegnanti decine di migliaia avevano fatto credo ormai tre anni fa domanda poi agganciata ad un bando per acquisire abilitazione poi c'è stato il covid poi sono cambiati più governi adesso abbiamo una nuova legislatura ma perché non si abilitano questi insegnanti perché noi siamo legati questo bisogno è legato alla capacità delle università di mettere in atto in campo percorsi abilitanti le università hanno uno schema diverso da quello della scuola in molte realtà parlo delle università del nord italia ad esempio non c'è un interesse particolare a indirizzare il proprio impegno verso i percorsi abilitanti e quindi si garantisce un numero di percorsi abilitanti assolutamente insufficiente c'è una battaglia tutti gli anni per poter ottenere 100 200 posti per le abilitazioni quando invece ne servirebbero migliaia di posti allora vuol dire che probabilmente il sistema universitario fa fatica a rispondere a questo bisogno quindi vuol dire che il ministero delle istruzioni del merito deve dal nostro punto di vista prendere in mano la situazione governarla dal di dentro e non pensare che sia l'università ad occuparsene da solo anche perché abbiamo assistito negli ultimi anni proprio sul sostegno a corsi universitari organizzati in maniera paradossale faccio un esempio regioni del nord soprattutto dove c'è moltissimo bisogno di specializzare hanno organizzato corsi per pochissimi insegnanti mentre il grosso delle delle specializzazioni è stato realizzato e preso in carico da università dove però la domanda e le necessità di sostegno almeno quello che dicono per quanto riguarda i numeri sono piuttosto bassino e quindi è chiaro che questo è una contraddizione che poi è anche alla base di quello che ne consegue successivamente un ultimissimo riferimento poi terminiamo alla nuova formazione la formazione che verrà successivamente aspettavamo successivamente appunto al 2024 abbiamo la decreto legge 36 poi convertito nella legge 79 appunto della scorsa estate ma come l'attuazione di quella legge non c'è aspettavamo dall'estate scorsa 31 luglio siamo fermi due parole su questo aspetto barbaccio sì la formazione iniziale per poter garantire ai ragazzi che escono dall'università di scegliere anche la carriera scolastica è un tema importantissimo noi siamo molto attenti anche a questo perché abbiamo bisogno anche di forze nuove però in termini di nuove generazioni che entrano nella scuola è evidente che è un tema che impatta fortemente con l'offerta formativa delle università e organizzare 60 cfu credo sia davvero un'impresa noi dalle interlocuzioni con il ministero sappiamo che ci sono diciamo delle delle difficoltà proprio pratiche organizzative però questo è scritto in una legge quindi nel giro di qualche settimana dovremmo avere contezza di questo testo che era stato già annunciato da qualche mese che non ha avuto mai non ha visto mai la luce e di conseguenza capire anche come riuscire a dare questa risposta ai nuovi giovani che dovrebbero addirittura anche durante il percorso di studi indirizzare il proprio piano di studi verso l'insegnamento piuttosto che verso altre dimensioni professionali è un tema che è rimasto parcheggiato appoggiato lì in attesa di vedere la luce dopo che magari il pnr riprende prende il via ed è però un'urgenza che sulla quale dobbiamo tutti riposte riportare la nostra attenzione saremo noi primi a sollecitare il ministero a darci delle risposte bene ringraziamo ivana barbacci segretaria generale scuola e spero insomma che si possa risolvere al più presto speriamo tutti per il bene della scuola dei docenti questa situazione di stallo che sta vivendo appunto il reclutamento dei docenti in italia sì decisamente sì lo attendiamo e questa sarà l'occasione credo che sia l'ultimo l'ultima stazione da cui poter ripartire per un segnale davvero nuovo rispetto al passato grazie barbacci grazie grazie